amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video con grande dispiacere comunichiamo un grave lutto per la rai in generale per tutta la televisione italiana se ne va una colonna portante dello spettacolo e della televisione nostrana prima di scoprire di chi si tratta vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo il 2 luglio ci ha lasciato paolo bel di storico regista di quelli che il calcio paolo bel di vanta un background davvero nutrito ricordiamo alcune delle sue trasmissioni come mi manda lubrano rock politica e francamente me ne infischio con adriano celentano paolo bel di novarese scomparso a 66 anni a causa di un infarto la dedica più bella la rilasciata il suo caro amico carlo conti carlo conti ha scritto se ne va un genio della televisione italiana con un animo sensibile eri un passerotto indifeso nel corpo di un uomo di successo e il primo che di marco liguori fa le più sentite condoglianze alla famiglia di un grandissimo alla famiglia di paolo bel di scomparso a 66 anni il 2 luglio 2021 a causa di un infarto ciao a tutti